Ragazzi ce l'abbiamo fatta, è un mattone il libro dei film Un anno dopo All'Ido siamo arrivati Ma soprattutto un anno dopo Il buon Riccardo Lore Compagno di viaggio Insieme a tanti altri che però vedremo prossimamente Per un paio di notti saremo solo io e te Ricca Stiamo andando a prendere posto a casa A prendere le chiavi A fare il check in, a sistemare le valigie E poi ci riaggiorniamo Ok aperto tutto, dentro avete le chiavi Io vado, sono di corsa Grazie Esattamente come me la ricordavo Eh sì perché è la stessa identica casa dell'anno scorso Ci siamo trovati così bene A di là del prezzo I prezzi sono veramente proibitivi qui A Lido durante la mostra Però se ci si organizza prima Noi abbiamo prenotato a febbraio Una roba del genere Avevamo già bloccato case e tutto E soprattutto siamo a 17 minuti massimo A piedi dal festival Quindi è una passeggiatina E ci siamo Ah beh diciamo che di lavori non ne hanno fatti Quindi è esattamente identico Ah vedi grandi L'anno scorso c'era il matrimoniale Che cicolava in maniera tremenda Appena mi muovevo Avevo valore di svegliare voi dall'altra parte della casa E invece quest'anno giustamente coppie zero E quindi io credo che dormirò qua Rick Posso scegliere? Ah beh scendi Mi metterei qua Ma mi va per niente Perché c'ho l'armadio vicino E c'ho un botto di cose da appendere E di qua è identico Vabbè qua non è cambiato veramente nulla Poi c'è la cucina aperta Molto carina Qui freezer, frigorifero E poi la cosa molto carina è anche La parte di giardino fuori Questa esterna E vabbè per il testo molto semplice Beh in pratica ho fatto fare il room tour Tour della casa Per coinvolgervi anche in questa esperienza Visto che ci staremo abbastanza Almeno io cucinerò parecchie volte qua Proprio perché una volta che spendi i soldi Per un appartamento Sicuramente la comodità è quella di potersi cucinare E non mangiare sempre fuori Uno per mangiare meglio E due per contenere anche le spese E adesso si va in direzione Palazzo del Cinema O meglio Ufficio Accrediti Per ritirare l'accredito Ecco vedete ci stanno ancora dei lavori in corso Ci danno un po' di strutture ancora da mobilitare E tutto quanto Ma è così ogni anno Quindi normalità Effettivamente c'era un po' di fila Ragazzi ce l'abbiamo fatta È un mattone il libro dei film Dopo andiamo a vedere bene che cosa c'è dentro Cosa ci hanno dato Poi ve lo faccio vedere una cosa alla volta Ora vi faccio vedere un po' Com'è la situazione attuale Ci sono ancora come vedete Un bel po' di lavori in corso E questa è la piazza principale Davanti al Palazzo del Casinò Lì si prendono i mitici sprizzoni Sto andando a comprare una busta Per fare un regalo Ebbene sì Mi sono vestito elegante Perché sto andando a consegnare un pacco Un regalo Per un'amica che si è sposata Esattamente oggi Il caso ha voluto questo E quindi sto andando a portare questo A questa persona E quindi Sono qui alla Giudecca Ho preso il vaporetto come avete visto Regalo riconsegnato Qui dietro a Lilton Appena fatto E quindi adesso si ritorna al Lido Ovviamente col vaporetto Finalmente vi farò vedere Cosa c'è in questa borsa La borsa dell'accredito Andiamola ad aprire insieme Allora La prima cosa che si vede È questa fantastica borsa Che comunque Non è niente male È veramente comoda Molto carina Impermeabile Della Tucano Il brand che ha realizzato Per la mostra Questa borsa Ed è una borsa anche Credo riciclata C'era una targhetta qua Che diceva Che Sì Riciclata Per la realizzazione Di questa borsa Sono state riciclate 15 bottiglie in plastica Tucano E mostra di Venezia Ahimè Ahimè Sono rimasto Scioccato Da questa cosa Ok la spending review Ok che non ci stanno soldi Che il covid Ha distrutto In qualche modo Anche l'economia del cinema Ma questa cosa Non si può vedere ragazzi Venezia 77 È identica A quella dell'anno scorso Cioè È proprio Lo stesso modello Identico Non credo che sia stato Un errore Solo Capitato a me Perché ho visto anche in giro Altre persone Con Sempre la stessa edizione 77 Quindi credo Semplicemente Che abbiano Ridotto E tagliato i budget Sulle borse Quindi Non ne hanno prodotte di nuove Ahimè Purtroppo È andata così Speravo di avere Una borsa aggiornata Con L'edizione corretta E invece no Ma va bene lo stesso Dai non c'è problema E quindi Andiamo a vedere Cosa c'è Dentro Questa borsa Compresa Nell'accredito È pesantissimo Allora Le prime cose Più leggere Sono Prima di tutto Il programma Intero Quindi Il programma Con tutti i film Tutte le proiezioni Tutti gli orari Di tutte le sale Eccetera eccetera Quindi tutto Nero su bianco In maniera Comoda Si può vedere Si può sottolineare Evidenziare I film Insomma Questo è un must È un po' la bibbia Di quando si assiste Alla mostra di Venezia Oltretutto Ci sono anche altre informazioni Riguardo Per esempio Ai battelli Altre informazioni Legate A tutto ciò Che ruota intorno Al festival E quindi Vabbè Varie cose Tante pagine E va bene Sono fatte Così Quindi ci sono I giorni Le sale E poi Anche Anche delle descrizioni Sui film Se per esempio C'è un Domanda e risposta Con gli autori In sala Dopo la proiezione Allora c'è scritto Qui Ci sono Un minimo Le informazioni Del cast Insomma Abbastanza Completo Questo invece È il programma Ha delle proiezioni Del market Di Venezia Che si chiama Venice Production Bridge Questo Chiaramente È dedicato A chi ha Questo tipo di accredito Che è L'industry trade Quindi Per le società Di produzioni video Per tutte quelle aziende Che hanno a che fare Con questo mondo E che rientrano Quindi in questa categoria E questo è il motivo Per cui Il tipo di borsa È questo qui Un po' più spesso Diverso da quello Degli accrediti Tra virgolette Semplici Quelli per studenti E per Under 26 E Di solito Sono quelle Le categorie Per cui C'è qualcosa in più Costa anche Abbastanza di più Questo accredito Io l'ho pagato 300 euro Mentre Quello appunto Base Per studenti Under 26 Costa Mi pare Una settantina D'euro Forse Qualcosa di più Comunque La differenza È tanta Oltre al vantaggio Di avere Una Una borsa Diciamo Un po' più spessa Un po' più grande Un po' più robusta Si ha soprattutto Questo Il librone Questa è veramente La Bibbia Qua Giustamente Venezia 78 Non poteva essere Altrimenti Anche la copertina Molto bella Mi piace veramente Tantissimo Ogni anno Viene scelta Poi una Una grafica Per Tutto questo Materiale Anche cartaceo E questi colori Mi piacciono Viene tantissimo L'anno scorso Erano blu Quest'anno Sono Arancioni Gialli Rossi Bello Mi piace veramente Tanto Questo è il librone Veramente Oggi Oggi Quest'anno È veramente Spesso E da qui si vede Anche la quantità Dei film Che parteciperanno Tra concorsi Fuori concorsi Edizioni Proiezioni speciali Eccetera Eccetera A questa edizione Rispetto a quella Dell'anno scorso È veramente Un bel mattone Ci stanno tanti film In più Quest'anno E Ci sono Veramente Un sacco di cose Bellissime Qua dentro Come vedete Ci sono Dei frame Del film Oltre a tutta la descrizione Ovviamente Qui ci sono Le sinossi Ci sono Degli approfondimenti Magari Sul regista Che è l'opera prima Piuttosto che Un retroscena Ci sono Vedi Commento del regista La biografia La biografia del regista La sinossi Tutte le informazioni Legate al cast La produzione Insomma Veramente tante cose E il bambino Nascosto Guarda che bello Questa è una cosa Fighissima Perché ci sono Dei frame Che ti danno Già anche un po' Il mood del film E chiaramente Questo Librone gigantesco Più Il programma Abbinandoli Ti permette Anche di Scegliere E di capire meglio Che cavolo di film È questo Che leggi qua Per esempio America Latina Ecco Io lo leggo da qui E a questo punto Se voglio approfondirlo O lo cerco su internet Se trovo qualcosa Oppure Vado nell'indice E me lo ritrovo qua Quindi molto Molto comodo Davvero Tra l'altro Questa è la copia Omaggio E costa Volendo si può Comprare a parte Non è Assolutamente Proibito Però costa 25 euro Quindi Ha comunque Un discreto valore E questo è Il librone Fantastico Pesa veramente Tanto Già sto pensando A quando dovrò Portarlo in valigia Perché ovviamente Poi questi Me li tengo Li colleziono Insieme a quello Dell'anno scorso E saranno Almeno Almeno Due chili E vabbè È giusto così Quindi questo Era il Tutto ciò Che sta dentro La borsa Dell'accredito In questo caso Ripeto Accredito Industri Bene Fighissimo Un sacco di roba Non vedo l'ora Di cominciare Domani Inizia ufficialmente La mostra del cinema Di Venezia Di questo 2021 E inizieremo subito Con un film Un film francese Un film Delle 11 di mattina Non vi anticipo nulla Quindi ci vediamo Al prossimo vlog Qui Da Venezia 78 Per andare finalmente In sala E rompere il ghiaccio E inaugurare Anche questa edizione Se vuoi rimanere Se vuoi rimanere Aggiornato Ovviamente Iscriviti Al canale Per seguire I prossimi video I prossimi vlog E mi raccomando Per seguire le dirette Perché faremo anche Delle dirette Tutti i giorni Vi porterò un po' In giro per il festival Faremo un po' Di chiacchiere Insomma Su twitch.tv Slash Giacomo Sisca Trovate Il Il flusso Anche delle dirette Quindi dai Che il video sia con noi Vado a dormire Visto che domani Ci si sveglia presto Evviva Venezia 78 Anche se non è ancora cominciata Sento Energie Positive Ciao Che il video sia con noi Grazie a tutti